Con le sue parate sta tenendo a galla il Varese. E pensare che sino a gennaio, era rimasto in panchina a guardare il campo da spettatore. Per l'estate si parla di un possibile approdo nella massima serie, con diverse società interessate alla saracinesca biancorossa. Sul futuro di Filippo Peruchini ha parlato in esclusiva il direttore commerciale dello studio ASSIST e Partners, che ne curano gli interessi professionali, ovvero Andrea Modora. Rendimento elevatissimo. Non sono sorpreso. Conosco bene la forza e le qualità del nostro assistito. Da tre anni sta mantenendo uno standard importantissimo di prestazioni, un rendimento elevato e di alto livello. Non stiamo parlando di una meteora, ma di una certezza. Peruchini pur essendo giovane, è un classe 91 NDR, ha già alle spalle dieci anni di settore giovanile al Milan e due esperienze importanti nei professionisti con Como e Lecce. Con Ilariani due anni fa, fu fondamentale nella corsa a salvezza. Come a Varese iniziò la stagione da dodicesimo per poi scalzare Mikai, e conquistarsi la maglia da titolare. Pure in Salento, ha dimostrato tutte le sue capacità. Voci di mercato. Fanno piacere, ma Filippo è un bergamasco doc. Un gran lavoratore che pensa solo al campo, e non si fa distrarre dalle sirene legate alla serie A. Peruchini pensa solo al Varese, che ha creduto fortemente in lui la scorsa estate. Pippo vuole ripagare i biancorossi dando il massimo per conquistare la salvezza.